Anche i dipendenti del Comune di Capodorlando hanno scelto i loro rappresentanti sindacali attraverso le elezioni che si sono tenute nella sala consigliare nello scorso fine settimana. Lo spoglio delle 177 schede valide su 203 avanti diritto al voto ha portato all'elezione di Nino Longhitano per la DICAP, Salvatore Lazzaro per la funzione pubblica CSA, Massimo Bontempo, Giuseppe Sergio Leggio, Maria Fiorello, Salvatore Esposito, Massimo Liuzzo e Salvatore Rizzo per il Movimento Giovani Lavoratori. Infine quattro rappresentanti vanno alla CGL Funzione Pubblica con Giuseppe Lanza Cariccio, Nino Pizzino, Antonello Lanza e Mario Merlino. Nessuno è eletto invece per la Will. La lista più votata è stata quella dell'MGL con 84 preferenze che ha messo alle spalle la CGL con 55. In pratica abbiamo preso 84 voti di lista e ci siamo aggiudicati 6 seggi su 12 complessivi. Volevo ringraziare tutti i componenti della lista e tutto lo staff che ha collaborato affinché questo successo diventasse realtà e ringrazio anche i dipendenti che ci hanno votato affinché tutti insieme possiamo raggiungere quei risultati agognati che meritiamo da tanto tempo. Grazie. 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 Grazie.